Ma soprattutto voglio ringraziare voi che siete qui a testimoniare questa grande forza, questa grande volontà di dire no alla mafia come quel cartello che c'è lisa, figuranti Paolo Portredino e Giovanni Falcone. E hanno fatto terra bruciata di questo territorio, questo è un territorio che adesso si lecca le ferite per questo passaggio terribile che c'è stato. Ma io vorrei qui fare un'altra riflessione, intanto dobbiamo smetterla di dire la famiglia mafiosa, il mafioso, diciamo quello che sono, sono assassini, assassini! E da qui noi vintiamo il discolore alle cose che facciamo. Noi veramente questa sera vogliamo celebrare una pagina nuova, nel nostro territorio. E anche le persone che magari possono essere titubanti nel collaborare questa sera, vedendo questa partecipazione, vedendo che le nostre realtà si organizzano, allora troveranno quel coraggio per collaborare. Intanto partiamo da noi, collaboriamo, mettiamoci insieme e con forza. i ragazzi, i giovani, sono sensibili a questa problematica. Allora io oggi ho detto ai ragazzi, un messaggio, ragazzi, giovani, siate liberi, siate forti, siate coraggiosi nelle scelte. Noi adulti vi accompagniamo. Grazie.